Puntare tutto sulla differenziata è uno slogan che i calabresi hanno imparato a memoria, a furia di sentirlo ripetere dagli amministratori, ma a conti fatti questo metodo che in alcune zone dell'Italia è in vigore da vent'anni nella nostra regione stenta a decollare. Finora si calcolano solo le perdite, più di 80 milioni di euro, tra finanziamenti ai comuni e alle società che avrebbero dovuto favorire e occuparsi della differenziata. Un patrimonio dilapidato che si aggiunge a tutti i soldi che finora sono finiti letteralmente in provvedimenti speciali che non hanno fatto altro se non spostare la spazzatura da un'impianta all'altro. Questa è solo una delle tante cifre che iniziano a trapelare da quella scrematura dei conti annunciata dal dirigente del Dipartimento Ambiente, Bruno Gualtieri. Nonostante tutto, la regione ha annunciato il finanziamento di altre 36 isole ecologiche. Sul tirreno, ad esempio, saranno finanziate quelle di San Nicolarcella e Diamante. Siamo in attesa, ha detto il vice sindaco di San Nicolarcella Eugenio Madeo, della convocazione presso la regione Calabria per firmare questa convenzione di 66 mila euro. I fondi saranno utilizzati per il potenziamento dell'isola. Ma al momento l'amministrazione sta sfruttando l'isola anche per depositare l'indifferenziata. E' stato questo un provvedimento tampone visto il periodo di emergenza che proprio non vuole abbandonare la Calabria. Facendo un po' il quadro della situazione per questo ferragosto, dal nostro giro di telefonata agli amministratori locali, risulta che la situazione è stabile e che per questo weekend tutto dovrebbe filare liscio. Ciò non vuol dire che l'emergenza sia passata.